Come sta andando questa campagna? Beh, la campagna diciamo che sta andando per quanto mi riguarda al di là di ogni aspettativa. Devo dire che non è semplice perché riuscire ad organizzare l'offerta vaccinale ad una categoria così sensibile come sono gli ultraottantenne, con tutte le accortezze e con tutta la sicurezza necessaria per affrontare quello che rimane un atto medico, ancorché non complesso, però rimane sempre un atto medico, non tagliando risorse alla vaccinazione pediatrica non è facile. Noi ci siamo riusciti grazie all'impegno di tutta l'organizzazione aziendale, sia quella ospedaliera, sia quella territoriale, che è coordinata dalla direzione strategica aziendale, è riuscita proprio ad affrontare sette ambulatori vaccinali, tutti ambulatori vaccinali che ci consentono di operare con la massima attenzione e garantendo la massima sicurezza agli ultraottantenne.